direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del nuovo super enalotto e la sua innovativa formula di gioco oggi giovedì 4 maggio il jackpot ha raggiunto la cifra di 39 milioni 796 mila 699 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 53 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute e in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 75 siamo al secondo numero con il nuovo super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 33 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 65 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 39 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 15 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 20 dopo i sei numeri che assegnano jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 7 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 75 33 65 39 15 20 numero jolly 7 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 ed ora procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in allotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 71 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 53 in ordine crescente 15 20 33 39 65 75 numero jolly 7 superstar 71 l'estrazione di oggi giovedì 4 maggio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 39 milioni 700 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 53 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del nuovo super in allotto assegna 330.025 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 39 milioni 700 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super in allotto non è stato realizzato ed il jackpot cresce ancora per arrivare a 40 milioni 800 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 4 e vincono 40.850 euro ciascuno i 4 sono 475 e vincono 346 euro ciascuno i 3 sono 17.527 e vincono 28 euro ciascuno i 2 sono 282.404 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 12.039 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella l'unico 4 stella si aggiudica 34.670 euro i 3 stella sono 79 e vincono 2848 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1.394 2 stella 10 euro vanno agli 8.484 1 stella e 5 euro vanno ai 19.657 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi il nuovo Super Nalotto vi dà appuntamento a sabato 6 maggio si giocherà per un jackpot di 40.800.000 euro arrivederci a presto a presto a presto